Ciao a tutti, oggi stiamo fare insalata, salata con pezzi, ma siamo usati rucola, rughetta, italiana rughetta, guarda, bella rughetta, facciamo pezzi, rucola, tomatoes, walnuts e il nostro glace, molto bene, il glace è molto bene, e abbiamo usato l'olivo limone, perché quando facciamo l'olivo limone e il glace è il migliore, ti devi provare questo, è molto, molto bene. Grazie a tutti. E' così, un'altra ricetta, in solo meno di due minuti, guarda questo, bellissimo, bellissimo coloro. Buon appetito!